Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1 si è verificato un incidente tra il bivio variante La Quercia e Cadenzano in direzione Roma al chilometro 278 che sta generando rallentamenti. Sul raccordo autostradale si è una Firenze per lavori in corso, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza del viadotto Filinelle nel comune di Barberino Tavarnelle. Per il trasporto aereo si ricorda lo sciopero nazionale di domani, domenica 4 giugno. Sul ponte Vespucci a Firenze per lavori fino al 13 giugno sarà chiusa la direttrice lato centro con doppio senso sulla semicarreggiata lato Cascine. Si ricorda che nel capoluogo toscano è tornata la ZTL estiva con stop sedale in vigore durante il fine settimana. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!